io sono z alex e benvenuti in questo raggio c'è un raggio in partita ma torno don vallee in compagnia di edd come avete sentito la sua bellissima voce di merda scusa lanci box che probabilmente un platino donor ha portato con sé in partita un bellissimo no è regular ea un raggio tutto è un baggio pura me lo stesso ecco ma perchè mi racca aaa e non reccare che te devo di mano i vagiti della patata ti seguo guarda niente sta mappando la registro mi lagga ma guarda la proprio laggosa ho sui noz o madonna ma perchè stai chiedendo pintus pontus qua pintus no perchè me lo trovi in mezzo e gli devi... baby 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 arzuipoll che cazzo stai eh l'ho visto troppe volte quel video per non ricordarmelo ho un'ascetta in legno per te I believe I can fly non capisco perchè le cose scarse attento i nomi delle cose scarse vengono deformate vieni qua ascetta ascina vieni qua piedini vieni qua asciucca vieni qua vabbè questo è forte eh oh non mi ha beccato una volta non mi ha beccato una volta cioè neanche io però io stavo prendendo d'ascia la differenza sua ah rato giuseppe in persino in legno cosa fai e poi non me la ricordo più però cazzo vabbè è anche una bella canzone pur ascoltata è anche vecchia è anche tutto è decrepita proprio io vado io mi allontano ok non farti dare oddio ho tolato due chestplate una per te una per me guarda la centizia ti ha detto che io ho mangiato tipo un doppio cheeseburger da boh una cosa come due chili cioè eh due chili sì un chili ah sì un chili cioè 500 500 i chili sono tantissimi oh eh minchia eh sì ma non ce l'ho fatta neanche a mangiare cioè ho mangiato 500 grammi a massa eh beh eh beh oh tieni qua tieni eh grasso c'è a un certo punto no vabbè tieni eh ce l'ho vabbè non mi interessa ce l'hai diamante o uno ferro tieni ma come cazzo ma si eh mi serve anche uno stick eh vabbè è tutto eh vabbè c'è l'ho messo di nylon si ma dove è finito il tizio per colpa tua ora l'ho perso di vista dammi uno stick dai veloce ah eccolo no ma non è lo stesso oddio messo bene ne mi dicono più dieta meno droga ho messo male ahahahahah gasparri intanto c'è il tizio con ragno dietro di noi gasparri for president vai ma cosa busti lui busta me fida 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 ma guarda che io ti vado dietro è il ping brutti scherzi comunque no a parte scherzi ho notato che hanno migliorato grazie ecco che hanno migliorato molto oh preso sento dietro hanno migliorato molto i gli oddio è fling nice box è fling nice box ah 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 dai aiutami no il ragno non si può chillare fai il giro no dovevi fare il giro del eh ah e aspetta che no no devo mangiare mi devi aiutare ammottino d'occhio si ma sta laggando un sacco ma come c'era la lobby vecchia la v1 te ricordi scherzi momenti la v2 oppure quella vecchia 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 su dei piani eh quella vecchia 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 ma non me la ricordo mi dico sic per favore oppure tempo fa quando ancora la lobby non c'era bisognava connettersi dal sito ma donna si me lo ricordo anch'io oppure quando ancora oh ma non mi prendo lo stick ah no c'è il metodo b va bene ok momenti di tampagina assurdo alla messa oppure quella ancora più vecchia più vecchia più vecchia più vecchia quando gli mcsg non c'era ma quando c'era il brodo primordiale non so il brodo primordiale il veneno percusco eh? è uno di cui cancri è tipo alla pasta col tonno cosa? ma il veneno percusco il imperatore quello la eh? c'è presente l'imperatore egiziano non me lo vi cioè non l'ho mai visto quel film il veneno percusco eh vabbè ahhh i grandi imperatori non me lo ricordo cioè su youtube mi son visto un paio di parti le parti più importanti ma non l'ho mai visto quel film è un cartone animato comunque se invece un altro cerchi un documentario cerchi un documentario intero su youtube bene ecco ti la parte 1, 3 e la parte 7 eh anche così ma soprattutto a fianco al video sei della parte 1 ah grazie per la parte 25 è vero o tipo la gente che tipo la youtube del 2008 dividiva i filmati tipo da da un'ora in non so 5-5 minuti 5 minuti 5 minuti oppure 10 minuti perchè non potevo caricatirla quando c'era il limite di 15 minuti ma devi collegare il telefono aia stai dietro si attento c'è un altro fagli andare contro gli altri due fagli andare contro gli altri due no 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 non ha affrontato non ha affrontato killdato killdato ma non doveva scappa 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 non ce la facciamo non ce la facciamo e e lui ci va scappa no ale non ce la facciamo e sta mappa non male che l'ho preso due volte a spiegare torna qua eh mi dovevo fare le frecce ma vabbè ti sei fatto lo sped in iron effettivamente dai siamo low ground proviamoci va vai 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 che ora sono di bici Vai vai Fermati Ok Cazzo lo sto prendendo Quello a sinistra ha pochissimi cuori Lo so Eh vaffanculo Ahia Uh bella questa Ehi la cosa Ok unaquinaquina qua Ok GG Attento dietro Perfetto grande Bravissimo Bravo bravo Guarda Mi sono messo l'fns Ci sono caduto sopra con una banana Attento scappa 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 C'ha la fottuta spada in diamante Kill Ok Ma perché a volte mi fa sti scatti Laser del mouse Sì anche io che lo dito con la canola pesca Ma si sei un genio Bravo Dove uno via Non ti vedo neanche Mi hai preso Ti ho preso Ti ho preso Giuseppe pensi venga cosa fai No Un cuore e mezzo manzo Ho preso pure il fulmine io Un cuore e mezzo manzo Eh perché non mi hai colpito Effettivamente si è stato stupido Eh no Non ho cliccato Non ho cliccato proprio E invece tu Ti hai ripreso il fulmine avrei vinto Ma come no veramente Comunque Eh intanto io con la tua visuale Bellissima Attenzione no E ora andiamo alla lobby Ok Sì sì Va bene perciò Vi invito a votare A commentare Ad iscrivervi No Non lo faccio più Ok meno male Sprabbattato il coglione Sprambato il coglione Esatto Quindi Io sono Z Alex Ovviamente vi invito a votare A commentare Ad iscrivervi Per questo video è tutto Io vi saluto Ciao a tutti ragazzi Ciao Ciao